è l'unico movimento ad essere cresciuto e in maniera consistente, io l'ho visto anche in Piemonte nonostante tutti gli attacchi infami che ci hanno tirato, ad essere cresciuto nel fronte alternativo rispetto alla sinistra, ma forse è meglio dire nel fronte alternativo rispetto al renzismo perché a sinistra Renzi non è che lo capiscono molto e anche questo è un ragionamento che noi dobbiamo fare sul recupero di determinati valori e quindi noi oggi ci troviamo di fronte ad uno scenario dove il nostro spazio politico è uno spazio politico immenso, abbiamo un campo immenso che possiamo arare e che areremo sicuramente nel modo giusto. Io vorrei ringraziare Matteo Salvini, mi associo a quelli che sono gli altri interventi che sono stati fatti, vorrei ringraziarlo per i risultati, vorrei ringraziarlo per il lavoro e vorrei ringraziarlo per la linea politica vincente che ha dato al nostro movimento. Allora noi dobbiamo partire da questa consapevolezza, non giocare assolutamente in difesa e sapere che siamo noi a dover costruire l'alternativa al renzismo. Per prima cosa dobbiamo in base ai punti che sono stati messi in campo in campagna elettorale elaborare, sviluppare un programma articolato, un programma che possa arrivare al cuore della gente, che possa arrivare al cuore delle categorie produttive, che possa reggere anche quelle che sono le critiche che vengono fatte nel merito. Allora alcuni punti semplicemente, basta euro, basta euro è stata una linea assolutamente giusta perché obiettivamente se noi scendiamo nel concreto del nostro sistema produttivo, della vita all'interno delle nostre famiglie scopriamo che da quando c'è l'euro le cose non solo non sono migliorate ma sono peggiorate notevolmente e le nostre aziende proprio a causa del rapporto di cambio negativo e a causa di tutto il sistema che è scaturito dall'euro hanno perso competitività e quote di mercato soprattutto nei confronti della Germania. Allora questa linea è stata una linea vincente ed è stata una linea giusta, oggi si tratta di capire che cosa, come noi dobbiamo giocarci in prospettiva, noi dobbiamo mettere in campo la possibilità da parte del nord e del suo sistema produttivo di competere con le altre regioni evolute a livello europeo e quindi in questo senso la euroregione del nord che si sta sviluppando non è un'utopia, non è assolutamente un'utopia ma è un futuro possibile perché nel tempo i territori si compongono e si scompongono e allora i territori omogenei hanno sempre un futuro per poter giocare una partita comune. l'altro tema che è quello centrale che qui è stato evocato con la scritta è quello del lavoro, io dico che la soluzione è molto semplice portando la mia esperienza di questi anni, non c'è lavoro perché le aziende chiudono, questo è il punto e le aziende chiudono perché c'è un sistema fiscale assurdo, una tassazione troppo alta, allora il punto vero è quello giù le tasse e semplificare, se noi abbassiamo le tasse per esempio al 20% allora questo automaticamente fa riprendere il sistema produttivo e migliora la competitività delle nostre aziende, non c'è altra soluzione, dicono con quali soldi, questo lo spiegheremo poi nel dettaglio però questo è anche l'unico modo per far riprendere il gettito fiscale, tanto peggio di così non può andare, è anche questo un punto che dobbiamo mettere in campo, peggio di così non può andare perché le nostre aziende stanno morendo, stiamo perdendo milioni di posti di lavoro, allora proviamo con una politica shock, cioè la politica di dire qui le tasse vanno abbassate, poi i risultati arriveranno e quello che non fa assolutamente Renzi, Renzi fa il contrario di questo e proprio per questo noi dobbiamo essere un'alternativa a lui. Altro tema, federalismo, autonomia e indipendenza, si è parlato della nostra discesa al sud, io dico questo e qui c'è il nostro grande Raffaele Volpi che ha lavorato tantissimo, allora il punto che va chiarito è questo, noi andiamo al sud per aiutare al sud lo sviluppo di movimenti autonomisti, non andiamo al sud perché intendiamo trasformarci in un partito nazionale e ancor peggio in un partito nazionalista italiano, questo no, 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 è proprio per questo la Lega si deve chiamare Lega Nord per l'indipendenza della Padania e questo discorso poi va calato anche sulle prese di posizione giuste che abbiamo avuto sul tema dell'immigrazione e sul tema della tutela dei nostri prodotti e delle nostre aziende. Parlare di federalismo, di autonomia, di possibilità di autodeterminarci vuol dire anche dare uno stop alla globalizzazione selvaggia senza regole che riguarda la circolazione delle merci, pensate a quello che è successo e che sta succedendo per quanto riguarda il nostro riso, noi abbiamo un'invasione di riso che arriva da fuori a bassa qualità e a basso costo e questo è un fiore all'occhiello del nostro sistema agricolo, era un fiore all'occhiello del nostro sistema agricolo, lo è e lo sarà ancora. E per l'immigrazione, quanto all'immigrazione l'abbiamo visto in questi giorni, lo vediamo in questi giorni come la politica del governo non sia una politica assolutamente da fuori di testa, quella del dire noi accogliamo tutti, ma non possiamo accogliere tutti perché accogliere tutti vorrebbe dire andare fuori di casa noi e vorrebbe dire anche agevolare lo sfruttamento della tratta degli immigrati. Quando il segretario della CISL dice che noi abbiamo bisogno di milioni di immigrati perché questi milioni di immigrati devono svolgere, dovranno svolgere determinati lavori, noi abbiamo bisogno di dare lavoro ai milioni di nostri giovani, ai milioni di nostri disoccupati, non abbiamo bisogno di un immigrato in più in questo momento. Questi sono alcuni temi che sono stati sviluppati anche in questi giorni e di cui si è discusso al congresso. L'ultima considerazione è questa, oggi in politica ha senso parlare ancora di contenuti? Per la Lega sì, assolutamente, a sentire Renzi no e questa è anche la differenza perché? Perché Renzi dice alla gente quello che la gente in quel momento, la platea si vuole sentire dire, dice quello che gli conviene poi non fa o fa il contrario o fa operazioni soltanto di facciata come quella degli 80 euro, con una mano ha dato ad alcuni 80 euro e con l'altra gli ha aumentato la pressione fiscale, ho l'operazione di facciata sulla riforma degli enti locali, lo sa bene Roberto Calderoli, ma quali risparmi si sono avuti con la riforma sulle province, nessun risparmio, soltanto si è andati a colpire gli amministratori locali e si sono praticamente azzerati i servizi perché sono tutte risorse, si tolgono risorse che andavano sui servizi. Allora qui la dicotomia è questa, tra la realtà, la nostra realtà che cerca di rappresentare la Lega e questo mondo artefatto di una comunicazione fine a se stessa, fatta con l'appoggio di alcuni mezzi di informazione. Allora io penso che alla fine, proprio per guardare nel lungo periodo, la realtà prevalga sempre e la verità e la giustizia prevalga sempre sulle cose artefatte, sulle cose costruite. Anche per questo la Lega avrà un futuro perseguendo questa linea che è la linea della concretezza che è la linea della realtà. Buon lavoro a tutti e anche a noi.